Siamo qui perché dietro questo torneo c'è un progetto importante, ricerca scientifica contro il cancro. Rappresentiamo l'Ordine degli Avvocati di Roma, ringraziamo il nostro rappresentante Massimiliano Cesari presso l'Ordine degli Avvocati di Roma per lo sport e siamo lieti e felici di partecipare con voi. Sicuramente questi eventi sono un momento di aggregazione perché più stiamo e più possiamo raggiungere importanti obiettivi. Grazie a tutti.